Benvenuti, benvenuti, benvenuti in un nuovo episodio del podcast di iPhone Italia. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, ciao Claudio. Ciao Giovanni, bentornato. Anche a te. Dopo la parentesi telefonica, eccoci di nuovo qui. Anche a te Cicino, mi sei mancato un po'. E anche tu, però... Va bene, dai. Sappiamo tutti che ci vuole un po' di allontanamento. Di distacco, per rafforzare il legame. Noi abbiamo rafforzato il podcast, vabbò. E quest'anno cominciamo con questa puntata, cioè dopo quella di quest'anno, cioè della prima, cominciamo con questa puntata dicendovi che faremo presto. Sì, sì. Voi ci credete? Come tutti gli anni, come tutte le puntate faremo presto. Senti, cominciamo subito. Volevo ringraziare chi ci ha scritto, chi ci ha seguito, chi ci ha fatto delle domande. Qualcosa riprendiamo anche oggi. I protagonisti dell'ultimo podcast delle telefonate. Ne rifaremo altre. Magari non in intero podcast, ma chiameremo anche tutti. Insomma, ne abbiamo un po' di numerini che vogliamo sentire ancora. Lo riproporremo. Claudio, comincerei a bomba su un argomento di cui ho promesso sul nostro blog. Quasi in maniera solenne. Oggi facciamo un approfondimento tecnico che poi molti di voi comunque ci hanno richiesto. So che è piaciuto altre volte quando l'abbiamo fatto. Vorrei un giorno tornarvi a parlare anche del fatto delle batterie. Ma oggi parliamo di CPU SOC partendo da la notizia che ha commosso il web. Ovvero Antutu, il noto benchmark che poi nasce con Android, ha stilato la classifica dei dispositivi più potenti del 2015 per la propria versione 6.0 del proprio benchmark ed è venuto fuori che l'iPhone 6S, come noi avevamo preconizzato, era tipo agosto e l'iPhone 6S ancora doveva uscire, è stato eletto a furor di numero e a furor di bench lo smartphone più potente del mercato, il SOC più potente. Notizia che vi sto riportando su tutti i media tecnologici, anche sui forum Android con una certa rassegnazione. Mi dispiace se a qualcuno ha creato qualche mal di pancia. Però è così, insomma è così. Si è dibattuto molto anche sul blog, non so se hai letto Claudio un po', no, ma perché, ma per come, c'è gente che è convinta, perché lo legge in giro, l'ho letto tante volte io, ma come l'iPhone ha un hardware modesto, c'è addirittura, scrivo obsoleto, ma adesso non vorrei andare tra i ragazzini, però mi è capitato di vederlo, anche in noti blog, da noi. Poi vai a sapere, però c'è effettivamente la convinzione ancora, in una parte, che poi dovrebbe essere, comunque, onnisciente no, però dovrebbe capire un po', frequentando i forum, insomma di chi si parla, di un hardware, ma così sembra che iOS sia un sistema operativo magico, e così. Claudio, noi l'avevamo detto. Eh, ma svegliamo. Noi l'avevamo detto, insomma un po'. Partiamo da Antutu. Antutu è un bench, che poi i bench non vuol dire niente. Io siamo i primi, dico siamo, perché intendo tutto il mondo Apple, perché i bench sono partiti sul mondo Android, e sono sempre stati quelli della parte iPhone, ma io per prima dire, sì, vabbè, bench su un... Aspetta, diciamo la verità, all'inizio quando parlavamo di iPhone 2G, in realtà, per quanto riguarda gli altri smartphone, che erano diversi da quelli attuali, nessuno parlava di benchmark. Sì, è arrivato dopo. In pochi parlavano di potenza. Sì, sì, ma li abbiamo sempre molto sbeffeggiati, nel senso che, vale l'esperienza d'uso, comunque non è un dispositivo su cui devi farci girare Final Cut o Adobe Premiere. Comunque, no, insomma, iPhone è sempre stato, soprattutto in quegli anni là in cui parla Claudio, un telefono che andava fluido, faceva determinate cose, altre meno, però lo faceva in maniera eccellente, poi ha fatto successo per quello. Quindi, ok, benchmark vale sempre l'utilizzo quotidiano, sì, però noi, comunque, c'è chi è anche appassionato di tecnologia, vorrebbe andare un attimino oltre, e noi non abbiamo detto che iPhone 6 è il migliore sul mercato, quello che costa meno, anzi, quello che vale la pena prendere, gli altri fanno schifo, ma per carità, però, se è più potente, è più potente. Antutu cosa verifica? Antutu, rispetto a Geekbench o ad altri, non si ferma la CPU, ma analizza CPU, GPU, RAM, e fa operazioni sull'interfaccia, da quello che ricordo. fa tutti questi test, e poi ne rilascia un risultato sintetico, un numerino, che è come tutti i numerini, vero Claudio? Poi alla fine, non vogliono dire assolutamente nulla. È relativo, diciamo. Nulla, quindi ragazzi, quando leggete mille, su un qualunque bench, quel mille, a meno che state guardando quelli grafici, che vi danno gli FPS, che renderizza, quello sì, perché quel numero ha un'unità di misura, quelli sono FPS, i numerini sui bench, sono degli indicatori, per stilare una classifica empirica, che vuol dire, è una statistica, in cui quel numero, può servire solamente a una cosa, effettuare un confronto, cioè, se quel test è minimamente calibrato, adesso Antutu ha anche le sue certificazioni, non è che poi, qualcuno ha detto, vabbè mo, siccome con la versione 0.6, con la versione 6, Antutu ha un po' cambiato, i vari risultati, quindi i risultati vecchi, non sono più uguali, anche con lo stesso telefono, perché prima Antutu, sottostimava un po' la parte grafica, cioè non ci dava molto peso, veniva fuori che l'iPhone 6S, adesso non ricordo i risultati, però era nella media dei top di gamma, loro hanno spiegato sul post, perché del cambio, che la loro classifica, a volte effettivamente non rispecchiava, poi gli effettivi valori in campo, hanno ridato una valenza maggiore alla GPU, che prima, lo stessi dicevano di sottostimare, è venuto fuori, che con la versione 6, effettivamente l'iPhone 6S, che noi lo sappiamo, avere una GPU potentissima, una power wear a 6 core, mi pare Claudio, io ricordo 6 core, qualcuno ha detto, sì ma il pannello dell'iPhone, è meno risoluto, quindi il bench, io sono andato a vedermi per voi, i bench di Antutu, sono due, uno è off screen, quindi è indipendente, dalla risoluzione del pannello, uno è on screen, però insomma è un test su 12, mi pare che ne faccia, su RAM eccetera eccetera, quindi sì, la risoluzione del pannello su un test, può influire un po', ma il risultato, io adesso non voglio i numeri, perché non voglio fare la guerra di numeri, perché il risultato è stato comunque netto, qualcuno, e ci ha dato insomma, l'opportunità, qua chiudo la prima grande, mega premessa, Claudio tu ti sei stupito di questo risultato, credo di no? A me la situazione non sconvolge più di tanto, devo dire la verità, anche perché considerando tutto, ci siamo sempre detti, che l'usabilità di iPhone, in confronto agli altri, che avevano bisogno di più risorse, per far girare tutto in maniera fluida, chiaramente non è una novità per noi, quindi magari può essere qualcosa che, sconvolge alcuni, però di sicuro, o almeno non penso, che sconvolga i nostri ascoltatori, penso, poi non so. Mi hai dato l'assist però, per una riflessione, allora, innanzitutto, chiudo il risultato Antutu, dicendo che, una CPU, che già sapevamo essere, tra le più potenti, nettamente la più potente in single core, raggiunta solo, in multi core, tra le più potenti, la GPU più potente, la RAM nuova DDR4, che era stata messa, diciamo che è un test, che poi mette insieme tutto questo, che porti l'iPhone 6S, ai vertici, non sconvolge, per un semplice 2 più 2 più 2, ecco, primo, primo appunto, soprattutto, riguardante il fatto, che la GPU, in questo nuovo Antutu, sia più rilevante, ma, ed è, ricordo minimo minimo, il 4S, in cui Apple svettava per le GPU, con le CPU, minimo minimo, dal 5S, che Apple era nettamente avanti, quindi, anche lì, sconvolge fino a un certo punto, Claudio però, mi ha dato un assist, fantastico, per parlare poi, della famosa ottimizzazione, perché credo che sia, capitato a tutti, e di sentire a tutti, che, questi risultati sono ovvi, perché, Apple ottimizza, giusto Claudio? Ma paura, ho paura, credo lo abbiamo, davvero tanto, dimmi, dimmi, no, no, credo che l'abbiamo sentito, anche dai blogger, più altisonanti, eccetera, eccetera, io adesso non vorrei fare, una questione filosofica, abbiamo detto, che andiamo corti, andiamo corti, sto andando velocissimo, però, vorrei, vorrei cominciare, a farvi notare, un po' di cose, ovvero, ottimizzazione, vuol dire, tirare il massimo, da quello che tu hai, cioè, noi non stiamo parlando, di mettere il nos, su una macchina, e farla andare di più, noi stiamo, ottimizzazione, vuol dire, cercare di fare, andare al massimo, quello che tu hai, ovvero, che non è, che se io ho un hardware datato, non un buono, diciamo, la terra terra, come qualcuno pensa, o sosteneva, iOS, riesce a farlo andare il doppio, punto uno, perché il software, dovrebbe, evitare di essere un collo di bottiglia, per l'hardware, però, al massimo, riesce a farlo andare al meglio, probabilmente, Android, per una serie di motivi, non è più ottimizzato, qualcuno dice, sì, il sistema chiuso, pochi modelli, questo è vero, però, ragazzi, sempre fino a un certo punto, uno, perché, non è che a Google, lavorano gli stagisti, di quel film là, non so se l'avete visto, che era fantastico, che hanno quelli di Starsky Hatch, cioè, non è che lavorano, Pivellini, e a Apple, lavorano, gli dei dell'informatica, uno, due, il sistema chiuso, sì, il processore, però, gli Android, se andate a controllare i processori, è vero, le piattaforme, sono, sono tante, però, tutti i top di gamma, poi, lo Snapdragon montano, l'810 montano, Qualcomm, rilascia i driver, Google li mette dentro, e via, però anche lì, le cose stanno cambiando, sì, per carità, allora, noi possiamo avere un 5S, in cui Apple ha deciso di passare a 64 bit, quando gli altri nemmeno se lo sognavano, è andata lì, il giorno in cui è uscito il 5S, noi avevamo processore, sistema operativo, e le prime app di Apple, tutte a 64 bit, cosa che gli altri magari non possono fare, perché, prima Qualcomm lo annuncia, poi lo fa, poi Google si adegua, poi si adeguano gli sviluppatori, sono passati due anni, questo, ok, ed è assolutamente vero, però adesso, tornando a parlare di sistema chiuso, qualcun altro mi ha detto, eh ma, uno è un sistema chiuso, l'altro è aperto, ragazzi, c'è il fatto che io posso collegarci, la chiavetta, o posso usare Android, come sistema, bla bla bla, memoria di massa, sì, ok, ma non è che vai, non è che quello che incide sulla prestazione, uno mi ha detto, eh ma Android c'è i widget, sì, che ci sia un widget, che ogni ora, va a controllare il tempo, a parte che, anche iOS ormai, ce l'ha lì, ma al di là del widget, non è che Android ha, 800 sistemi in pancia, e iOS si gratta la pancia, finché noi non lo usiamo, perché, come, cioè, sono sistemi, un altro mito che vorrei sfatare, è quello iOS, non è in multitasking, ogni volta, che questa cosa viene detta, un informatico muore, e Claudio Sardaro, si sta sentendo male già, eh, eh, giusto, qua, Claudio magari, che poi qua l'informatico è Claudio, cioè, ne sa sicuramente anche più di me, ragazzi, tutti i sistemi operativi, negli ultimi 30 anni, sono multitasking, cioè, fanno, vabbè, scusate la banalizzazione, più cose contemporaneamente, iOS, voi lo usate, state su Instagram, quello sta controllando, iCloud, chiaro, cioè, nel senso che, io spero che lo capiscono, no, no, ma tu non hai idea, Claudio, di quante, cioè, poi lasciate perdere, il fatto che, magari, il nuovo iPad, vi permetta di fare, quel multitasking, a livello utente, in cui voi potete, fisicamente usare, due applicazioni, quello è vero, quindi, questo fatto qua, non è che incide sui bench, bench, che poi sono mediati, su molti bench, fatti sui singoli telefoni, però, vabbè, quindi, non è che, uno mi ha detto, aprite il task manager, di Android, c'è l'ira di Dio, cioè, è vero che il task manager, su iOS, non c'è, ma non è che c'è, un processo su iOS, cioè, uguale, quindi, cioè, il chiuso, meno chiuso, non influisce, può influire la gestione, dei processi, influisce, questo sì, ma non è iOS, è Android, che è un po' più, collo di bottiglia, quindi, non è che Apple ottimizza, è Android, che ottimizza male, che c'è diverso, per esempio, le applicazioni su Android, lavorando su Java, su una macchina virtuale, hanno delle applicazioni, con un linguaggio, che è interpretato, e non compilato, adesso, non ci voglio nemmeno, star qui, però vuol dire, che le applicazioni, quando vengono scritte su Android, hanno bisogno di un interprete, che lei traduce, per il linguaggio macchina, su iOS, sono native, questo qua, è uno spreco di prestazioni, che però, nel tempo si è affinato molto, e soprattutto di RAM, quindi, se vedete che Android, consuma molta più RAM, nelle applicazioni, questo è una delle cause qua, però, a livello di, prestazione pura, quando tu apri AnTuTu, e stai facendo girare un gioco, sugli FPS, quello c'è gli FPS, ragazzi, sia sistema chiuso, aperto, sta, se sta facendo le, scritture sulla RAM, mi sta testando la velocità sulla RAM, la velocità della RAM, è quella, manda dati in RAM, e li legge, c'è, sì, per carità di Dio, però, il fatto dell'ottimizzazione, di iOS, va molto, riconsiderata, ci sono, delle operazioni, su cui sicuramente, Apple si concentra, questo sì, tipo la cifratura, sappiamo che, è tutta fatta in hardware, ed è velocissimo, lo vediamo anche da Geekbench, tanto per farne esempio, però, il discorso è molto da, cioè, dove voglio andare a parare, a finire, a concludere, che c'è comunque, una piattaforma hardware, di grandissimo livello, torniamo alla CPU, voi leggete una CPU, due core, altri otto core, quindi gli altri otto core, sono meglio per forza, no, perché, c'è tutta una questione di, dovremmo fare architetture, dei processori, in un podcast, se non mi pare il caso, però, di parallelismo, di istruzioni, e di come queste, vengono gestite, noi possiamo, tra l'altro, i core, di Apple, sono customizzati, quindi, noi sappiamo, che sfruttano, le istruzioni ARM, e che vediamo, dai raggi X, due grandi core, tra l'altro, spulciando, le caratteristiche tecniche, ho visto anche, che i due core, hanno quattro unità, aritmetico logiche, sono quelle che fanno, banalmente i conti, quindi, vuol dire, che in quei due grandi core, esistono, dei due piccoli, esistono quattro core, che fanno le operazioni, il vecchio A8, dell'iPhone 6, aveva, due miliardi, di transistor, e roba da CPU desktop, di qualche anno fa, ha delle cache, gigantesche, di memoria, le cache sono, le memorie, ad altissima velocità, che vengono utilizzate, nelle operazioni, di calcolo computazionale, e poi c'è tutta una, esattamente, poi c'è tutto un livello, questo di sicuro, Claudio ne sa più di me, ma sono cose impossibili, da affrontare in un podcast, sono di altissimo livello, che riguardano il progetto, tu puoi fare due core, Intel fece l'hyper trading, anni fa, in cui il sistema operativo, vedeva più core, di quelli che fisicamente erano, quindi alcune operazioni, riuscivo a parallelizzarle uguale, poi c'è il problema, che quando parallelizzate le operazioni, perché a volte dite, eh ma, o leggete che quello è giusto, ma un calcolo parallelo, magari lo sfrutta molto un bench, però nella vita reale è difficile, questo è vero, perché non tutti i calcoli, non tutte le operazioni, si possono parallelizzare su molti core, in maniera semplice, c'è un discorso di pipeline lunga, quando la pipeline, è qua che concludo, però devi spiegare bene la pipeline, esattamente, non è assolutamente voglia, e non è questo il momento, però vedete, ci sono mille, anche noi parliamo dei core, quello che vediamo, uno dei parametri molto importanti, sulla parallelizzazione dei processi, sono queste pipeline, le pipeline sono degli stadi, in cui viene gestita l'operazione, i primi 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 processori, le operazioni base, ne avevano 5 mini operazioni, quindi ogni ciclo di clock, dovevi fare 5 robe, prima di portare a casa un'operazione, hanno parallelizzato questa cosa, però qual è il problema ragazzi, quando fate delle pipeline, poi molto lunghe, se succedono dei salti, all'interno del codice, cosa assolutamente, all'ordine del giorno, cioè, quando si programma, la pipeline va risvuotata, e voi perdete un sacco di tempo, e di cicli di clock inutilmente, quindi, più la fate lunga, più avete dei vantaggi, degli svantaggi, la stessa cosa, con le frequenze operative di clock, ovvero, sappiamo che Apple, è molto conservativa, e questo permette, ad Apple, di fare dei processori, potentissimi, come avete visto, ma anche che consumano poco, nel rapporto, prestazioni, consumi, i processori di Apple, ma credo, quantomeno dal 5S, sono al top della categoria, è un parametro, che non possiamo non considerare, se fate un dispositivo, di pochi centimetri quadrati, e per tutte queste storie, per altre, che poi nemmeno noi possiamo dirvi, perché i progetti, lì sta solo, non sappiamo nemmeno come è fatto, abbiamo solo delle, delle cose, che possiamo vedere, un po' per reverse engineering, un po' andandoci a spulciare dentro, ma poco, quando leggete, che iPhone ha un hardware obsoleto, fate come noi, compratele un libro, a questi signori, dite tu, leggi qualcosa, vabbè dai Giovanni, siamo andati, hai spiegato nel dettaglio, spero che, tutti abbiano seguito, però, no, no, non ce l'ho fatto, scusate, sarebbe stato, è un discorso infinito, tra l'altro, avresti dovuto prendere addirittura appunti, quindi evitiamo, no, no, è troppo, ho fatto, una sintesi massima, avevo promesso un po', che avremmo approfondito la questione, quindi lo dovevo, farlo più in breve, più breve di così, non ce la facevo, non ce la facevo, quindi scusate, però, so che me l'avete chiesto, e questo è, però non pensate che sia banale, o che sia iOS che fa i miracoli, iOS può, può essere, molto ottimizzato, può aiutare, può non essere un collo di bottiglia, come magari Android, a quel peso della, macchina virtuale di Java, andate a vedere, se questi concetti, basta, basta una lettura su Wikipedia, non sarete degli ingegneri informatici, ma capite di quello che sto parlando, ed è questo qua, non è affatto banale, sono progetti di altissima ingegneria, cioè, noi molte volte li banalizziamo, uno può pensare, ma perché Apple non mette 8 core, mettono gli altri, beh certo, perché ne ha fatti due, ha fatto un senior progetto, di cui noi purtroppo conosciamo molto poco, vediamo solo i risultati, anche gli altri stanno tornando indietro, con per esempio, lo Snapdragon 820, che è un processore, realizzato a 14 nanometri, quindi in teoria, al pari di quello, di quello attualmente montato, su iPhone serie S, 6S, o meglio, quindi, in realtà, andremo verso, una, continuo di miniaturizzazione, normale, anche per ridurre i consumi, verso, non, non tanto, un fatto di perdita di potenza, ma quanto di ottimizzazione, ora non vogliamo parlare, di numeri, di potenza di calcolo, o robe del genere, però, parliamo di un processore, che è molto probabilmente, darà grande filo da torcere, finalmente, a quelli di Apple, visto il salto tecnologico, che stiamo facendo, questi ultimi anni, e visto anche, il livello di ottimizzazione, che questo processore avrà, è chiaro che Google, deve lavorare, per integrare bene, tutte le, le possibilità offerte, da questo nuovo, Snapdragon 820, però, siamo sicuri, almeno secondo me, sono sicuro, che quest'anno, i produttori di smartphone Android, potranno veramente, lavorare bene, con questo processore, rispetto a quanto, non hanno potuto in realtà fare, o quasi, con lo Snapdragon 810, dello scorso anno, in quest'ottica, diciamo che siamo rimasti, un po' delusi da questo CES, perché, si aspettavano, grandi proclami, di smartphone, con Snapdragon 820, in realtà abbiamo visto solamente, più o meno, in un prototipo, di un LeTV, Le Max Pro, parliamo di un telefono, di provenienza cinese, con Snapdragon 820, ma con una scocca, che non era nemmeno quella definitiva, molto probabilmente, non vedrà luce, prima di marzo, invece, chi è stato assente, per quanto riguarda smartphone, ma ha portato sempre, l'annuncio dell'820, su un proprio smartphone, è Xiaomi, che l'anno scorso, non ha presentato, alcun tipo di, Mi 5, che dovrebbe quindi, sostituire, l'ormai datato, Mi 4, che ha adesso, che monta, in realtà, lo Snapdragon 800, 801, ora non me lo ricordo, quindi un processore a 32 bit, e adesso, finalmente, secondo Xiaomi, i tempi sono maturi, per poter, cambiare, tecnologia, sul proprio smartphone, di fascia alta, cioè il modello di punta, diciamo, dell'azienda, anche se abbiamo visto, un sacco di smartphone Xiaomi, durante il corso del 2015, e quindi, arriverà a febbraio, almeno in Cina, quindi poi vedremo un po', quando e come, riusciremo ad averlo, anche noi, in Italia, lo Xiaomi Mi 5, smartphone, che, a prescindere da tutto, oltre, diciamo, lo Snapdragon 820, ci aspettiamo, che sia davvero, davvero interessante, il design, mi sembra che sia realizzato, completamente in vetro, non è nulla di che, diciamo così, ha un frame in alluminio, insomma, qualcosa che abbiamo già visto, un po' con iPhone, con Samsung, e vari altri smartphone, degno di nota, di sicuro, è il discorso, del, del, del display, che comunque, non sappiamo ancora, se sarà 1080p, o QHD, quindi 2K, e, parliamo però, di una fotocamera principale, da 16 megapixel, dovrebbe essere, veramente buona, e una frontale da 8, di sicuro, ottima, per i selfie, per i selfie, la MIUI 7, ci sarà, e quindi, ci sarà anche Android, niente, insomma, dovremmo avere, uno smartphone, con 4 giga di RAM, questo Snapdragon 820, a un prezzo relativamente basso, quindi, di sicuro, sarà veramente, un dispositivo, da provare, da comprare, qualora vogliate, un telefono Android, con l'820, subito, diciamo, se no, dovrete aspettare, molto probabilmente, a febbraio, marzo, con l'annuncio, che, con gli vari annunci, di smartphone, che, di sicuro, ci saranno, durante, la fiera di Barcellona, annuale, anche lì, però, nel Mobile World Congress, dovremo capire bene, cosa farà, per esempio, Samsung, che pare, al momento, essere l'unica, a produrre, stampare, o meglio, il sistema monachip, di Qualcomm, cioè gli 820, futuri, e che dovrebbe integrare, questi 820, anche nel proprio, Samsung Galaxy S7, quest'anno, si parlava, Claudio, addirittura, che avesse, un'esclusiva temporale, sì, questo è stato un qualcosa, detto, tempo fa, ma è chiaro, che se è in produzione, del Mi 5, no, cioè, non ha nessuna esclusiva, al massimo, l'esclusiva dello stampaggio, non lo so, eh, boh, sì, sì, si era letta, questa, questa cosetta qua, come, vediamo, sembra un buon, se posso dire io la mia, sinceramente, prima, di farti parlare, secondo me, quest'anno, potremmo essere, sorpresi, finalmente, da Qualcomm, non che, durante gli anni scorsi, non sono usciti, prodotti interessanti, però, probabilmente, finalmente, si sta andando, verso la strada, più intelligente, cioè, quello di ottimizzare i consumi, e, proporre un prodotto, che, non, non sia, uno scaldavivante, anche se, in realtà, con tutte le polemiche, cavolate varie, perché così, possiamo definirle, basse, secondo me, riguardo, TSMC, Samsung, su iPhone 6S, e 6S Plus, boh, io non credo che, questa scelta, sia, realmente sicura, nel senso, per Qualcomm, ora vedremo, però, non so se 14 nanometri, sono pronti, ecco, no, no, quello, quello, sì, perché, se erano pronti prima, anzi, avranno anche affinato, ulteriormente, eh, più che altro, mi ha fatto sorridere, perché ho seguito, un po', la loro conferenza, i dati, i dati che, più o meno, eh, quindi, molto a spanne, quindi, come vi avevamo preannunciato, la potenza del 6S, così, facendo un ragionamento spannometrico, dovrebbero, arrivare sulle potenze del 6S, con, con questi nuovi processori, però, hanno fatto un salto indietro, sarà un quad core, secondo me, come filosofia, eh, realizzativa, sarà molto, molto, molto più simile, a come funziona, a come funzionano, i chip di Apple, perché, prima avevano questo, questi quattro core, che funzionavano a bassa potenza, e quattro core, che funzionavano ad alta patente, questo big little, adesso sembra che avevano fatto un 2, più 2, adesso, non ho ben capito, sinceramente, eh, sembra che abbiano fatto un bel lavoro, sicuramente i 14 nanometri, consentono di risparmiare, sui consumi, ed è il motivo per cui, Apple, invece, ha aumentato le frequenze di clock, è stato, sa che sono aumentate del 25%, e dubito che, nel futuro, vedremo aumenti così importanti, Apple se l'è giocata così, a posto dei consumi, ha spinto sulle prestazioni, motivo per il quale, io credo che, il prossimo iPhone, sarà una ritoccatina, niente di che, perché ormai, poi ci avviciniamo, ci avviciniamo, ai limiti, imposti dalla tecnologia, quindi come, come anche, l'iPhone 6, giusto Claudio? rispetto al 5S, aveva avuto, più 20, 30% di prestazioni, mi sa che, in realtà, il salto più grande, ci sia stato, tra il 5 e il 5S, 5 e 5S, lo raddoppiò, lo raddoppiò, in modo bestiale, poi, il 6, ha fatto, un più 30%, ma in effetti, se uno li usa, si accorge abbastanza subito, sono molto simili, il 5S, adesso che, abbiamo delle versioni, di iOS, un attimino più, da Apple, e non quelle porcherie, che escono a settembre, ottobre, no, porcherie no, però, ne abbiamo parlato varie volte, non ci voglio tornare, vediamo, 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 sarà un bel 2016, e, ormai, sono talmente, tanto potenti, Claudio, che sarà sempre, una questione più, sempre più a gusti, permettimi, anche a prezzi, perché poi, boh, sospirone, di Claudio Sardaro, sospirone, che è successo, stavo pensando, era un, un sospirone, di riflessione, sì, attenzione, ragazzi, perché, quando Claudio Sardaro, sospira così, vogliono dire due cose, la prima, che deve andare al bagno, deve andare al bagno, Claudio, se non è quella, la seconda è perché, c'è l'acquisto in vista, lui sta, pensando, a un acquisto, quando Claudio Sardaro, sospira così, parte la scimmia, dell'acquisto, Claudio, cosa ti compri, Claudio, vediamo, vabbè dai, poi ce lo, ce lo, ce lo, ce lo spoilererai, vedremo, dipende da cosa compro, madonna, Claudio, ma come te la tiri, Claudio, vabbè dai, Claudio, vuole mantenere, il suo riservo, comunque, comunque, detto questo, e chiudiamo, con questo, grande argomento, di, di telefoni, e tanto, non siamo mica, iPhone Italia, e, parlavamo prima, con Claudio, di un certo S6, che si trova online, a 400 e qualcosa euro, ed è calato, ed è calato il silenzio, perché, che gli vuoi dire, che gli vuoi dire, dato che sono in procinto, di, di acquistare un 6S, mi ha detto così, considerando che, sarebbe alla metà del prezzo, e ragazzi, uno può essere appassionato, quanto vuole, io utilizzo iCloud, per me, c'è, però ma, c'è, eh ragazzi, so, eh, caspita, che gli vuoi dire, c'è, ha un telefono, che costa meno della metà, anzi, anzi, meno della metà, vabbè, senti, dipende, anche perché, dipende, io, sinceramente, a prescindere da tutto, a gennaio, non comprirei mai, uno smartphone, in generale, perché, c'è il Mobile World Congress, vicino, se volete, sì, se volete, per forza, il top di gamma, però sai Claudio, cioè, prima tra un anno e un altro, vedevi, caspita, dicevi, no, guarda qua, quanto è bello, quanto va, quanto, che foto, cioè, bisogna essere onesti nel dirlo, tra un anno e un altro, sinceramente, tra un anno e l'altro, questo succede, ora, ora, tornando a noi, questo succede, che hai un iOS 9.3, che non va su un telefono, comprato un anno, prima di un altro, o comunque la beta, che non porta, la novità, parliamo di iOS 9.3, però sono bravo, eh, no, no, è un launch man, un anchor man, grazie, all'americana, allora, iOS 9.3, è uscito iOS 9.3, l'hai provato Claudio? perché, anche perché dicono, o almeno dicono, ho letto, da variati parti, di amici, che hanno provato, ora, a prescindere dai nostri, che rallenta un bel po', almeno in questa prima beta, io ho letto, eh, io ho letto, e ho letto anch'io questa roba, però ho letto invece, da utenti di iPhone 6S, che scrivevano, scandalizzati da quanto il loro andasse veloce, quindi, o ci sono dei bug, che sporadici, che stanno azzoppando, quello lì, oppure, aveva il 6S, che si strabiglia, della velocità, aveva qualche bug prima, molto semplicemente, ehm, le prime beta, bisogna evitarle, meglio partire dalle seconde, e noi lo diciamo, se proprio, uno la deve metterla tutta, sempre, poi, Claudio, diciamocela tutta, Claudio, ma nel modo, ma quando c'hai Andrea Cervone, che te le prova per te, ma a me scrivono, come faccio installare la beta, ma che te frega, mi verrebbe da dirgli, no, tipo così, ma che te frega da beta, ma guardate il video di Cervone, vedi che c'è sta di nuovo, quando arriva bello stabile per tutti, te lo scari, vabbè, niente, quindi, parlando di questo fatto, in romanesco, ne andiamo a molto più, parlando di questo fatto, quindi, capite bene, che un po', allora, qual è il discorso, che ci sono alcuni smart, alcuni dispositivi iOS, che non hanno, eh, ricevuto, la, almeno, in questa prima fase, l'aggiornamento con la, con il discorso del, dell'ingiallimento del display, all'occorrenza, cioè, insomma, è una modalità, grazie alla quale, per chi non lo sapesse, è possibile avere meno problemi, a leggere qualcosa, di notte, e quindi, accecandosi meno, prima di tutto, ma poi, seconda cosa, conciliando più il sonno, ora, meglio non usare proprio, i dispositivi a letto, questo, questa è la mia idea, però, siccome tutti lo facciamo, ben vengano queste cose, il problema qual è? Siamo davvero sicuri, che una, una cosa del genere, non possa essere implementata, sull'iPhone 5, a Giovanni la parola, eh, no, perché, siamo partiti da là, praticamente, ragazzi, sui dispositivi a 32 bit, la prima beta, però, di solito, Apple, quando, secondo me, sarà così, sui dispositivi a 32 bit, questa caratteristica, sembra essere disabilitata, adesso, sappiamo, che Apple, prima, soprattutto, nelle major release, dai 3, ai 4s, ai 4, soprattutto 4s, quel periodo lì, tendeva ad azzoppare molto, il vecchio, per il nuovo, ultimamente, bisogna dirlo, i sistemi operativi, stavano venendo fuori, uguali per tutti, tranne, lo abbiamo detto, il 4s, che non aveva ProAx, diciamo, anche quelli, che potevano utilizzare, Apple Watch, dispositivo da 512, già grasso, che cola, aggiornato per il 4, capito Giovanni, sono maligno, Apple Watch, fa, certo, certo, bisognava rendere, Apple Watch, disponibile, su più dispositivi possibili, anche, giustissimo, però, ragionavamo sul fatto, torniamo a noi, che, questa funzioncina, chiamiamola poi funzioncina, ragazzi, vi fa lo schermo un attimino, più giallino la sera, non si è abilitata, sugli iPhone 5, però ho letto su tutti i dispositivi, a 32 bit, vabbè, è gli iPhone 5, sostanzialmente, 5c, 4s, però Claudio, mi diceva, che, me lo dicevi tu Claudio, sì, scusa, è la vecchiaia, sì, ma diceva Claudio, che su alcuni iPad, lui aveva letto, che questa, questa funzione, sembrava, avesse rallentato, l'iOS 9.3, ah, tu ce l'avevi proprio con iOS, ah, ok, no, ragionavamo con Claudio, allora scusate, del fatto, ma veramente hanno, perché comunque è una funzioncina, molti hanno detto, ecco, vabbè, cominciano a fare fuori dispositivi vecchi, sì, può essere, può essere, a Claudio gli chiedevo, così, pur parlare, ne parlavamo prima, microfoni spenti, ma Claudio, caspita, magari togli proactiva, magari rendi anche il telefono più snello, insomma, quelle funzioni che uno, tangibili, no, l'ultima delle funzioncine, perché poi è quello, cioè, ragazzi, niente di che, su una versione .3 di iOS, tolta giusto appunto su dispositivi a 32 bit, possibile che ci sia qualche motivo anche tecnico, ne parlavamo prima con Claudio, non so dirvelo, non so dirvelo perché, per fare un display un attimino più blu, un attimino più giallo, computazionalmente si faceva col jailbreak, non è un problema, non è un problema, però parlavamo con Claudio, come l'ha implementata Apple, non lo so perché non l'ho provato, magari non fa semplicemente un filtro più blu sulla vostra schermata, magari va, lo fa su determinati colori, per non farvi vedere poi molte porcherie, cioè se una cosa è già blu, lascia blu, se una cosa è troppo gialla, la fa blu, o al contrario, e allora questo potrebbe essere più pesante per la CPU, e allora hanno deciso di toglierlo, io tenderei, ma non perché voglio credere a Apple, ma perché mi sembrerebbe, cioè non è che la gente va, è proprio una chicchietta, la gente, io ho trovato gente che aveva il touch ID, e non sapeva di avere il touch ID ragazzi, cioè, mo figuriamoci, eh veniva da piangere, mo figuriamoci, su una funzioncina, nel menu, luminosità, e schermo, credo che un motivo tecnico ci sia, poi eh, non lo so, eh, io non lo so, voi non lo sapete, così, dall'ipotesi, detto questo, io ho visto degli sviluppatori, che erano contenti di iOS 9.3, però, consiglio è, state lontani dalle beta, eh, qualcuno ci ha chiesto, ma iOS 9.2.1, che fino ha fatto, li sviluppano in parallelo, ragazzi, non è la prima volta che succede, eh, quindi, quella, uscirà a breve, la 9.3, quando esce in primavera, eh, è stato abilitato finalmente il supporto a più Apple Watch, finalmente io che ho tre Apple Watch e non sapevo come fare, posso farlo, lo sai Claudio? Sì, sì, l'ho saputo, anzi ti ho visto proprio, è, è una funzione, penso che l'unico, l'unico, gli unici che avevano questo problema erano i, i dirigenti Apple, anche io con me, avendo più orologi, perché dubito che ci sia gente che ne abbia più di uno, però, wow, l'hanno fatto, infatti Andrea diceva giustamente, non mi dicono se era Andrea, ma possibile, non potevano invece dare la possibilità di utilizzare più iPhone su un stesso Apple Watch, contemporaneamente, però, vabbè, eh, eh, vabbè, però poi è un casino, perché è un casino? però se uno ha due telefoni, però se uno ha due telefoni, sì, giusto, 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 c'è anche chi li ha, eh, vabbè, eh, nient'altro su S9.3, giusto? ma su S9.3, no, no, però ho visto dei video, insomma, sembra, sembra buono, ragazzi, risolveranno i mille bug, che c'erano da settembre, ne hanno già, ne hanno già risolti 500, mancano gli altri 500, detta di uscita prevista, secondo me, non prima di marzo, no, non prima, poi non lo so, hanno fatto, ah, beh, Claudio, c'è una cosa bella, la multiutenza, per quanto riguarda le robe scolastiche, ma quale in realtà era stata già annunciata, tempo fa, ora è finalmente implementata, bisogna capire, è un'apertura, secondo te? però, qualcuno, qualcuno ha detto, che potrebbe essere l'apertura, alla multiutenza su iPad, non credo, che la multiutenza su iPad, possa, giocare molto, alle vendite, alle vendite del dispositivo, anzi, eh, è quello, loro vendono dei dispositivi personali, certo, è vero, che quando ce l'hai a casa, però ragazzi, diciamoci anche, la verità, mettiamo, che siamo a casa Sardaro, no? C'è l'iPad con il suo Apple ID, perché poi multiutenza, che vorrebbe dire, Claudio, un iPad da più, cioè, ogni utente sarebbe un Apple ID diverso, in pratica sì, sì, può succedere, però per l'uso classico dell'iPad, ovvero, sul divano, a far giocare, comunque a vedere le robine, cioè, vostra moglie prende la presa Fari, sì, potrebbe avere il suo, il suo, lei potrebbe avere il suo iPhone, quindi, se entra col suo Apple ID, potrebbe avere le sue password sincroni, sì, 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 per carità, sarebbe comodo, però come, boh, a quanti succede poi, no, molti la ritengono come una delle grandi mancanze, per me la mancanza era lo split view, per quanto poi sia, secondo me l'iPad è un dispositivo personale, comunque, non è, di cui dipende, il tablet da condividere, è un altro discorso, esatto, esatto, che poi sono lì e buttato sul divano, perché lo vedo, lo vedo, no, magari messo lì sul divano, che anche la moglie va lì, si guarda la robetta su internet, sì, ma voi ve lo vedete, cioè, se io devo prendere, sono a casa di Claudio, voglio vedere una roba su internet, ma adesso, riavvio oppure esco, entro il mio, entro col mio Apple ID, per cercarmi una roba su internet, o per usare la mia app, sono tutte sciocchezza, ripeto, anche perché poi Apple ha fatto in famiglia, questo sarebbe contro un po' in famiglia, no? Perché, relativamente, sì, sì, no, eh sì, perché in realtà, in famiglia prevede più dispositivi, che poi, stanno insieme, e quindi, più di altro, più account, secondo me è più facile creare un account, non lo ritengo un grande limite, io, continuo a ritenere un grande limite, quando vedo, iOS, su iPad Pro, con delle schermate, dove c'è, 3 cm di testo, e tutto grigio, che, secondo me, c'è da lavorare lì, lì, per me è stato sbagliato, questo è operativo, però, questi sono discorsi, veramente, da massimi sistemi, se dovessimo trattare nel podcast, altro che un'ora di podcast, cioè, o meglio, ne abbiamo anche parlato, in passato, però, io, Claudio, sono, io, Claudio, invece, sono, credo che iOS, possa, ritagliarsi lo spazio, su iPad, ma un iOS, cioè, non è una versione clone, di iPhone, che a volte, sembra veramente adattata lì, pensa anche la, a me facevano ridere, quelle, quelle tendine, che prendevano, poco schermo, a parte le trovavo brutte, adesso, se tu tiri fuori, se tu tiri giù, io non ce l'ho adesso, però, anzi, chiedo a te, se tu tiri sotto, il centro di notifiche, adesso, occupa tutto lo spazio, giusto a due colonne, il centro, è tutt'uno, prima c'era, cioè, c'è una parte, dove c'è scritto il giorno, prima c'era quella colonnina, singola, il calendario, eh, dall'altra parte, prima c'era la colonnina singola, o sbaglio, prima non c'era la colonnina singola, non mi collo, eh sì, ed era orribile, ma adesso, se tu lo tiri, aspetta, se lo tiri in giù, il landscape, è un altro, un discorso, il portrait, è un altro, oh, ecco, vedi, però no, c'è, un utilizzo, prima era veramente la stessa, cioè, sembrava pure gli stessi pixel, che, lì, in mezzo allo schermo, ti tirava giù, sta colonnina qua, Giovanni, il fatto che si stiano ottimizzando, è chiaro, e mi sembra anche ovvio, perché se non l'avessero fatto, sarebbe stato veramente scandaloso, era doveroso farlo prima, Claudio, era doveroso farlo subito, il centro notifiche è una cosa relativamente nuova per iOS, no, io sto facendo un esempio, sì, no, ma io sto dicendo in generale, invece, invece di, dico, il discorso, secondo me, qual è? Che sì, tu da un lato, hai un dispositivo, che potresti far sfruttare, meglio dal cliente, dall'altro, il cliente compra un tablet, anche per cercare una certa semplicità, per certe cose, sarà banale forse quello che sto dicendo, però, un iPad, oggi viene utilizzato molto per consultazione, d'altronde ne ho parlato anche sui blog, sì, cioè nel senso, puoi produrre, puoi utilizzarlo al posto di un computer, per certi versi, per certe cose, l'iPad Pro ti aggiunge giusto, il discorso, principalmente, parlando, dico, dello spazio, sullo schermo, però, insomma, iOS 10 deve cambiare un po', se vuole portare maggiore produttività, sugli iPad, sì, cioè, io credo che veramente, una, una versione pensata, a parte, che poi è quello che fa Apple, no, pensa, le robe in base ai dispositivi, iOS su iPad è sempre stato un porting di quello di iPhone, e guarda, se voi aprite iPad Pro, aprite le impostazioni, lo vedete, cioè, non è, quell'interfaccia non è realizzata, nessun, nessun mai, nemmeno un designer di, che potete contattare ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, vi farà mai, scritte di tre centimetri, tutto lo spazio vuoto, è quello lì il mio discorso, poi, adesso il centro notifiche, l'app, eccetera, eccetera, è quello, e quello è grave, quello è gravissimo, secondo me, dai, peccato, però, detto questo, il 21 gennaio, io vado a vedermi il film di Steve Jobs, perché, il trailer, ti dici, mi è venuto in mente, va bene, va bene, e lo voglio vedere, va bene, Giovanni, comunque, non lo so, non lo so bene il giorno, devo decidere, a prescindere da questo, sto dicendo, durante le prossime puntate, di sicuro, cercheremo di interagire più con voi, così andiamo verso la chiusura, se siete d'accordo, e poi, un'altra cosa, è che, di sicuro, parleremo sempre più di iPhone 7, man mano che ci avvicineremo, all'ipotetica data di rilascio, lo so che siamo a gennaio, e parliamo di qualcosa che accadrà più, tra più di sei mesi, quindi, sì, siamo consapevoli che stiamo esagerando, dicendo più, quando ci avvicineremo, e ne parleremo, però, veramente, quando ci avvicineremo, ne parleremo, al momento, tutti i rumors che stanno circolando, sono stati abbastanza trattati già da noi, quindi, sembra quasi superfluo riparlarne, è chiaro che, se dovessimo avere qualche dettaglio in più, sarà nostra premura, dirvi ciò che ne pensiamo, e soprattutto, cercheremo di capire anche se ciò che trapela, possa corrispondere davvero a realtà o meno, eh sì, penso che, uno spazio sul podcast, da qua in avanti, piccolo, grande, 5-10 minuti che sia, sull'iPhone 7, commenteremo i vari rumors, man mano, perché ce ne saranno sempre di più, probabilmente cominceremo anche dalla prossima settimana, ci sarà sempre uno spazietto dedicato, beh, è inevitabile, oltre alle solite poi notizie, eccetera, eccetera, io concluderei Claudio, così forse veramente abbiamo fatto prima del solito, con la questione vendite dell'iPhone 6S, c'è chi dice che ne stiano venduti meno, c'è chi dice che ormai il mercato sia saturo, c'è chi dice che le azioni vanno male, vabbè, in America che stanno andando male dappertutto, io vi lascio solo con un dato, ci sono 28 analisti finanziari importanti americani, che ritengono che Apple supererà, ma la conferenza sarà a breve, mi pare fine gennaio la fanno di solito, non voglio dirvi una stupidata, comunque tra un po' ci saranno gli annunci di attività, dovrebbero avere gli annunci del trimestre natalizio, io ricordo un fine gennaio, però vabbè, magari veramente posso fare un'altra spiegazione, 28 analisti ritengono che Apple supererà il record storico dello scorso anno, 4 no, quindi non lo so, i dati in Cina sono incoraggianti, è vero, cioè fare il record ogni anno, ormai siamo usciti alla saturazione del mercato, non sarà più possibile, però leggo addirittura qualcuno che parla di flop di iPhone 6S, cioè un attimo, un attimo, non esageriamo, flop è una parola grossa, questi forse fanno di nuovo il record di iPhone venduti, quindi un attimo, diciamo che si parla di vendite sotto tono, vediamo un attimo quello che succede, sì, di vendite che, ma quello è ovvio, perché ormai il mercato americano è saturo, l'europeo è saturo già da due anni, cioè non si fanno più i record, sono sempre quelli, tot milioni tutti gli anni, vediamo, vediamo come andrà, commenteremo anche quelle quando avremo i dati, sì, vabbè, comunque, secondo me, quello che dicevo prima, ma magari c'è chi compra dopo, ma comunque gli iPhone vengono comunque venduti, insomma, di sicuro la saturazione del mercato c'entrerà qualcosa in futuro, però per il momento, diciamo che Apple vende, quindi... Posso farti ridere con l'ultima... Certo, certo. ...con l'ultima roba. Ieri ho visto sul Twitter, sul Twitter di un collega, di un noto blog, lo spacchettamento di un Mate S, limited edition, sembrava una pacchieria, tutta una cosa pacchiana, di Huawei. Il Mate S è quel dispositivo che pochi mesi prima presentò quella specie di force touch, un po' per anticipare Apple, ma che poi aveva due funzioni in croce che pesava le arance. Hanno presentato su quel terminale le nuove funzioni, non so se hai visto il mio tweet, Claudio, con la foto, e sono spudoratamente copiato. Uguale, cioè non è che dici vabbè, la funzione, no no, cioè anche graficamente, del tutto uguale a quelle che fa il 6S. Segno che comunque, ragazzi, che serva, che non serva, che sia utile o meno, Apple resta sempre un faro da inseguire, poi magari, ripeto, se il force touch, 3D touch, come lo vogliamo chiamare, magari non sposta gli equilibri, però, anche si rumoreggia l'S7 con una sorta di nuovo di live photo che non ha inventato Apple, l'abbiamo detto tante volte, ci mancherebbe, ma Apple l'ha ritirato fuori e boom, sicuramente sono ancora in grado di fare una certa tendenza, dai, questo è il dubbio. Vabbè, vedremo un po', anche perché, comunque sono marchi emergenti, non proprio emergenti, nel senso che comunque, stiamo parlando di Huawei, non stiamo parlando di, di marchi così, ecco, però, Peccano sempre a trovare la loro identità, senti, però Huawei di solito, è il marchio che più cerca di crearsela, l'identità, magari il discorso del 3D touch è stato fatto veramente per far parlare di Huawei, però tutti gli altri terminali, devo dire che, almeno durante il corso del 2015, hanno stupito e hanno venduto anche tanto, almeno da noi. Ah, sì, no, ma chiaramente loro vogliono fare dei telefoni belli, prestanti, ottimi dal punto di vista qualità-prezzo, non tocca a loro inventarsi, fare le innovazioni nel settore mobile, questo sì, però, diciamo, è quella la marca in più che manca ai cinesi, però questo mi sento di dirlo, purtroppo, se si inventano qualcosa, di solito, va bene, non è sempre così, va bene, comunque, io sono molto interessato alla Xiaomi Mi 5, questa è la verità, devo dirtela tutta, adesso, a fine podcast, Claudio vi dice le cose a fine podcast, perché li rimangono in linea fino alla fine, abbiamo capito cosa stava elucubrando, però dubito, dubito che lo acquisterò, ecco, questo discorso, però tu hai acquistato anche un altro dispositivo, Android ultimamente, non l'avevi fatto? era per, per la, per recensione e basta, non ce l'ho qua con me, però l'hai, l'ho usato un po', eh, mi ricordo che stiamo facendo un podcast e tu ma era per test, non era acquistato per acquisto, quindi, l'avresti riacquistato? vabbè, stiamo parlando di un telefono medio di gamma, che comunque era buono, non dico di no, infatti ne ho parlato bene, perché c'era da parlarne bene, però non era il telefono che faceva per me nel caso. Grazie Claudio. E se lo dice Claudio Sardaro, ragazzi? Va bene. Lo smanettone principe del podcast, cioè, voi potete seguire tutti i blogger, quelli che provano, che fanno le colazioni, ragazzi, ma quando dice una cosa a Sardaro? Vabbè, dopo questa presa è in giro, ci salutiamo. No, no, guarda, è la prima volta in tutto il podcast in cui sono serio. Va bene, non ci credo, però va bene. Va bene, ragazzi, dai, comunque vi salutiamo, direi, siamo stati veramente brevi rispetto al solito, più o meno, e grazie per averci seguito, torneremo la prossima settimana, e niente, ciao Giovanni, ciao ciao, ciao Claudio, ciao, ciao ciao.